Gentili telespettatori, buona giornata. Forse siamo a un punto di svolta perché trapela la data per la fine del Green Pass. Fino adesso si è detto, bah, verrà allentato, non verrà cancellato, forse rimarrà assieme all'obbligo vaccinale anche fin dopo, il 15 di giugno, eccetera, eccetera. Ma le pressioni ormai sono alte non solo dalla politica ma da molte personalità che sono di tutti gli ambiti della società. Quindi c'è una data per i liberi tutti che potrebbe essere realmente molto prima dell'estate. Adesso vi dirò la data esatta, cioè proprio il giorno. Beh, intanto anche Draghi dice bisogna adesso cambiare passo perché ha visto che in tutta Europa stanno cancellando dall'oggi al domani le restrizioni, mentre in Italia vogliono continuare a tenerle. Beh, io sono fermamente convinto che la sinistra voglia continuare a tenere le restrizioni per un fine elettorale. La sinistra pensa solo a questo, come cercare di vincere le elezioni. Un modo intanto è quello di tenere il Green Pass attivo, proprio per mantenere anche i gruppi no Green Pass, no Vax, perché questi, visto che probabilmente votano molti per paragone, sono voti tolti a Meloni e Salvini e questo serve alla causa della sinistra per impedire che vincano le elezioni. Ma torniamo alla data. Il culmine è il 30 di aprile. Lì ci si aspetta i liberi tutti, spiega il Corriere della Sera, che raccoglie le ultime indiscrezioni direttamente dai palazzuna del governo. Quindi dal 31 di marzo al 30 di aprile, in quei 30 giorni, il Green Pass dovrebbe allentarsi fino a sparire proprio il 30 di aprile e dal primo di maggio essere comunque abolito. Ma c'è un ma. Ma. Quale ma? Eliminato il Green Pass per la maggior parte delle attività, resta comunque però l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori e per gli over 50 fino al 15 di giugno. E così con l'obbligo vaccinale per gli over 50 per andare al lavoro dovranno probabilmente esibire un documento o se comunque sarà cancellato probabilmente il governo riuscirà a mandargli quelle famose multe da 100 euro che non sono mai partite proprio per mancanza dell'elenco che non è mai arrivato. Tra la seconda settimana di marzo e la prima ci sarà il nuovo decreto che vedrà la luce che sarà in vigore dal primo di aprile questa data simbolo che segnerebbe l'inizio del percorso inverso verso la libertà. Il giorno pretende infatti il precedente il 31 di marzo scade lo stato di emergenza e si spera che non sia poi un pesce di aprile ma no, lo stato di emergenza sicuramente non verrà prorogato. Il Green Pass verrà abolito dicono dal primo di aprile fino al 30 di aprile verrà poi cancellato ma alcune misure verranno però comunque confermate ci sarà intanto un ritorno alla normalità per alberghi, ristoranti, bar, negozi perché il tema del turismo è fondamentale in Italia visto che l'Italia vive sul turismo pertanto come vi dicevo il Green Pass non viene eliminato di netto il primo di aprile ma come trapela dai palazzi della salute e Chigi dovrebbe arrivare alla sua eliminazione proprio per fine del mese di aprile perché intanto l'idea del governo è che questo Green Pass vada a stimolare, diciamo così le terze dosi che arrivino a completamento e magari convincere ancora qualcuno a fare la prima dose quelli che non si sono mai vaccinati fino ad oggi quello che sarà rinnovato probabilmente è l'utilizzo della mascherina al chiuso nei luoghi diversi dalle abitazioni private non ci sarà l'obbligo poi di mascherina FFP2 all'aperto negli spettacoli mentre sarà rinnovato quello al chiuso per teatri, cinema, locali di intrattenimento, musica competizioni sportive al chiuso il punto è ma fino a quando poi queste misure dovranno continuare? non si sa esattamente quel che è certo che il Green Pass rafforzato quello che si ottiene per guarigione o vecino non servirà più in bar e ristoranti all'aperto dal 31 di marzo fino a fine aprile intanto il 31 di marzo scade l'obbligo di molte cose perché proprio il decreto arrivava fino a quella data quindi come dicevo in altri video al primo di aprile non è che le restrizioni qualcuna viene cancellata e qualcuna no proprio decadono il 31 di marzo pertanto bisogna fare un nuovo decreto per riattivare eventualmente le restrizioni che c'erano fino a quella data così dai palazzuna di governo arriva la notizia trasversale che l'obbligo del Green Pass andrà a finire nel mese di aprile tra cui anche poi mezzi di trasporto a lunga percorrenza per favorire il turismo porte aperte ai turisti non porte aperte alla Renault come diceva una pubblicità degli anni 80 ma per gli ultracinquantenni non vaccinati ancora il governo spera e punta in una loro diciamo vaccinazione sarà dura perché chi non si è ancora vaccinato ad aprile probabilmente non lo farà ecco chi è rimasto senza lavoro e senza stipendio ad aprile diciamo che realmente non non lo farà perché se fino a quella data non si è mai vaccinato io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti grazie a tutti per avermi ascoltato e ricordatevi che c'è anche Tele Italia Seconda Rete dove trovate video di notizie politica e anche di fai da te grazie a tutti